La Liffe muove la classifica ma pareggia 1-1 con lo Spinete in casa sul polveroso e pessimo terreno di gioco del Marco Spinelli. Il gol di Grillo aveva illuso la tifoseria Lifana, ma il pareggio dello Spinete arriva come una doccia fredda, considerando anche le numerose palli-goal per i ragazzi di Mr. Morra, almeno sei nell'intera gara. Un risultato un po' bugiardo se si considera il lungo possesso pala della Liffe e le numerose occasioni sprecate. Una partita maschia per buona parte dei 90 minuti, senza però mai superare il limite della correttezza. I ragazzi del presidente Gian Matteo hanno tentato in vano fino al novantesimo di raddrizzare il risultato. A margine dell'incontro abbiamo sentito i protagonisti della giornata intervistati per noi da Maria Cavicchia. Una non vittoria oggi, cosa è mancato alla squadra? Un po' di personalità su un campo difficile, non era facile giocare e vincere qui, una squadra ostica, anche se nel secondo tempo abbiamo rischiato di vincerla. Sarebbero stati tre punti molto importanti anche per la classifica, avremmo fatto un altro campionato probabilmente. Quindi le potenzialità c'erano? Sì, sì, potevamo fare di più sicuramente, nel primo tempo non abbiamo giocato benissimo. Negli ultimi minuti non siamo riusciti a fare il gol decisivo. Presidente, i buoni acquisti e le nuove leve di questa squadra sembra però che non portino i risultati sperati. Diciamo che la squadra sicuramente è competitiva, io ritengo che sia anche più forte della squadra dell'anno scorso. Bisogna trovare ancora la quadra su alcuni ragazzi che non stanno tanto il massimo, molti stanno giocando al di sotto delle loro possibilità. Abbiamo avuto anche una serie di infortuni, oggi c'era qualcuno che era infortunato, qualcuno stava squalificato. Quindi diciamo che io credo che la squadra possa ben figurare in questo campionato. Oggi la partita si doveva chiudere, siamo stati sfortunati in due o tre occasioni, potevamo segnare per fare il 2-0 e poi nell'unica occasione che loro hanno tirato in bordo c'è stato un infortunio, c'è stata una palla di piada che ha spiazzato il nostro portiere. Purtroppo sono gli infortuni che nel calcio ci stanno, ma io sono molto fiducioso che questa squadra possa fare bella figura nel campionato. Mister, allora, come commenta questo mancato bottino e soprattutto cosa rimprovera i suoi ragazzi? Ma sicuramente nulla perché la partita è stata giocata secondo me a un buon ritmo, solamente che come ha detto il Presidente non siamo capaci di chiuderla nel momento in cui dovevamo chiuderla. Poi è normale che ci siamo abbassati, la paura di vincere perché la vittoria era troppo importante per noi, quindi ci siamo abbassati e purtroppo sull'unica incertezza, diciamo, tra virgolette, abbiamo subito il gol dell'1-1. Ma di là di tutto io non posso rimproverare nulla a tutti quanti i ragazzi, anche perché avevamo parecchi indisponibili, tre ragazzi infortunati, a me ho squalificato, cioè voglio dire, abbiamo giocato con cinque under in campo, quindi più di questo non potevamo ottenere, anche perché mercoledì scorso abbiamo avuto la partita di Coppitale che ci ha tolto parecchie energie, quindi niente, dispiace soprattutto per i ragazzi perché meritavano questa vittoria, anche per il morale, per far sì che poi in settimana si lavorasse più tranquillamente, più serenamente, ma sta di fatto che dobbiamo lavorare ancora di più per ottenere quello che poi ci siamo prefissi, cioè fare un campionato all'altezza della situazione.